è un po' difficilotto parcheggiare qua oggi poi vedete anche un principio di intero scresi guardate le calze una arancione una fuschia lo sapevi però ci sta ti dona molto tecno ricordiamo tutto calcolato ricordiamo che le nostre befane special si esibiranno su questo palco più tardi e saranno loro a distribuire le calze dei bambini a partire dalle 15 e 30 grazie befane ci vediamo più tardi buon lavoro grazie grazie a tutti 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 ciao 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 Guardate che era bellissima! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!